L'aereo del futuro senza finestrini e con una vista mozzafiato a 360 gradi. Si chiama Xeon ed è il nuovo modello di velivolo progettato dalla compagnia francese Technicom Design. L'aereo è dotato di una serie di telecamere montate sulla parete esterna del mezzo. Queste registrano lo spazio circostante e lo proiettano all'interno dell'abitacolo su schermi ad alta risoluzione che ricoprono la superficie del velivolo e sono alimentati da pannelli solari. Montagne innevate, foreste intricate, arcipelaghi e la vastità del mare, tante le immagini catturate dalle videocamere che garantiscono ai passeggeri la visione di uno spettacolo avveniristico ed inedito. Un nuovo modo di concepire gli aerei che offre una diversa sensazione di volare ma che permette anche un notevole risparmio economico. Il jet è più leggero ed il costo dei materiali è ridotto rispetto ai velivoli tradizionali.